Bello, perché prima destra e poi sinistra, perché questa è di Materazzone. L'autogol del tuo idolo, questo è il più bello di tutto. Qui è stato sfortunato, è stato sfortunato di entrare in campo quel giorno. Materazzone. Mancini molto contento di questa cosa qua. Tra l'altro questa era pre-mondiale, se non sbaglio. Pallonetto di sinistra. Ma dice che c'era un vento impressionante a Empoli quel giorno. Eh certo, è per quello che ha fatto. L'ha toccato a piano lui. Lui l'ha toccato a piano.